Si chiamava Emilio Solimene, l'uomo ucciso a Caevano nel complesso residenziale del Parco Verde. Già noto alle forze dell'ordine, Solimene, 27 anni, era considerato vicino a Gennaro Amaro, che pochi mesi fa ha fatto la stessa tragica fine ucciso in strada, mentre a pochi passi i bambini giocavano a pallone. Solimene, invece, è stato raggiunto dai sicari mentre si trovava all'esterno di un bar. I killer, secondo le prime ricostruzioni, hanno mirato alla testa inutile la corsa in ospedale. L'uomo sarebbe deceduto durante il tragitto. Secondo gli inquirenti, l'omicidio di Solimene è da ricondursi alle logiche malavitose che in questi mesi interessano l'area nord di Napoli. Alla base dell'omicidio potrebbe esserci uno sgarro a chi detiene il potere criminale nella zona, addirittura un tentativo da parte di un gruppo di fuoriusciti da diversi clan, di cui Solimene e forse lo stesso Amaro avrebbero fatto parte, di ritagliarsi una fetta di mercato nell'Interland partenopeo. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Casoria.